... Quello che avete sentito nella presentazione dimostra che crediamo e abbiamo creduto nella Serbia non a parole ma con i fatti. Con gli investimenti che abbiamo già fatto abbiamo in Serbia più o meno 2000 dipendenti ma pensiamo nel giro dei prossimi due anni di raddoppiare questo numero. Oggi la maggior parte delle aziende che producono nel settore dell'abbigliamento o che producono in generale valutano investimenti in Asia, investimenti in paesi a bassissima. Oggi quindi la competizione si svolge a livello mondiale e c'è una ricerca continua del costo sempre più basso. Noi siamo convinti invece non solo perché c'è simpatica la Serbia e i Serbi ma che qui ci sia un mix di capacità lavorativa, di intelligenza, di orgoglio, di volontà di migliorare che possa dare degli ottimi risultati. Anche in futuro nelle nostre fabriche dimostrarci che non ci sbagliamo, che abbiamo fatto bene a scommettare sulla Serbia e che ci sono delle risorse umane veramente di eccellenza e veramente capaci di far crescere le aziende per il futuro. Anche in Italia fa fare crescere anche la amicizia tra di noi perché solo così possiamo migliorare le nostre condizioni capireci di più e stare meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In altre parole, oggi un'impresa italiana cresce. Crescita credo che sia oggi la parola che unisce più di ogni altro tutti noi che siamo qui, italiani e serbi. Noi italiani perché un'eccellenza, quella di Calzedonia, dell'impresa italiana si fa strada in questo paese e continua lungo quella via internazionale alla crescita che Sandro Veronesi conosce bene. E' una via internazionale alla crescita che molte imprese italiane percorrono e che Calzedonia ha percorso diventando uno dei marchi più famosi italiani del mondo. Ma crescita unisce anche i Serbi a noi italiani. È una crescita che è quella che Calzedonia porta oggi qui a Subotica. E' una crescita che Calzedonia ha portato e continua a portare anche in altre città della Serbia con i progetti che sono già stati avviati e che sono in via di realizzazione. E' una crescita che si misura anche nella tecnologia, nelle conoscenze che un impianto come questo porta a Subotica e in Serbia. In questo momento, il primo ministro lo sa bene, la Serbia affronta la difficile sfida del risanamento economico con l'obiettivo di migliorare il livello e la qualità della vita dei Serbi. E' un percorso che durerà qualche anno. Ma sono sicuro che impianti come quello che vediamo oggi qui, l'esperienza e la nuova opportunità che questo impianto porta aiuterà la Serbia e i Serbi nel percorso che hanno davanti. Ma sono sicuro anche da ciò che fabriche, come quello che è la qualità che dà otvarano, iskusti e le nuove opportunità che ha donato, sveakako pomoći Serbiji e Serbima da doggiu do tog cilja e na tom puto da budu uspessi. Auguria Calzedonia e auguria la Serbia. Sve najbolje Calzedoni e sve najbolje Serbiji. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.